assolutamente secondo voi io non lo devo provare assolutamente devo provarlo ho già giocato al primo quindi indubbiamente the island 2 lo devo provare e ci vogliono i mezzi giusti ci vogliono i mezzi giusti grazie a yama pc eccolo lì il mio fantastico nuovissimo computer è veramente un sistema super bilanciato io non sono una gamer diciamo come avete capito di professione quindi mi piace insomma così così mi piace e quindi anche per fare musica oltre che per giocare è perfetto scheda madre msi ovviamente come sapete super qualità processore intercore i5 una bellissima scheda grafica rtx 3060 magica magica è tutto bianco per rispettare il look che non è veramente bello mi piacciono molto e rosa ragazzi non dimentichiamoci il rosa per le femminucce sarà poi azzurro per i maschietti importante vabbè comunque come l'uovo di pasqua questa è la mia presenza la mia presenza